L'informazione di valore sul canale 18. Questa è Esperia TV. Calda estate. Calabria Verde traccia un primo bilancio delle attività svolte. Migliaia e roghi in tutte le province. Per tre giorni Casa Calabria 2020 ha fatto tappa a palmi in progetto multicanale sia televisivo che radiofonico per raccontare il meglio del territorio. Martedì 18 di agosto. Bentrovati sul 18 di Esperia TV per l'informazione regionale. La bimba è tornata a casa. San Mauro Marchesato, piccolo comune del Crotonese, la bimba di appena due anni risultata positiva al Covid-19. La piccola è stata ricoverata per altre cause nel reparto di pediatria dell'ospedale Pitagorico dalla serata di Ferragosto. È stato il laboratorio di microbiologia dell'ospedale di Catanzaro ad accertare la positività. Ora la bambina che è asintomatica sta meglio ed è stata posta in isolamento domiciliare. Il direttore sanitario Lucio Cosentino rassicura tutti. È stata ricostruita la catena del contagio. Sono stati effettuati i tamponi su familiari e contatti stretti. Rimaniamo in tema. Restano a roccella ionica alcuni minori non accompagnati lo scorso 11 luglio nel corso di uno sbarco nella Locride. Alcuni minori non accompagnati sbarcati nella Locride l'11 luglio scorso resteranno a roccella ionica ma verranno trasferiti in alcune strutture della carità sul territorio. Nello specifico si tratta di sei minori attualmente positivi al coronavirus. È stato il sindaco Vittorio Zito ad annunciare il loro trasferimento. Il problema è la definizione di procedure certe per gestire queste situazioni. Queste procedure certe non c'erano. Queste procedure certe le abbiamo sperimentate in questo periodo. Dobbiamo fare il tesoro di quello che è successo per darci delle regole. In un primo momento si era anche pensato alla nave per la quarantena restata a largo delle coste calabresi per due giorni ma poi diruttata in Sicilia. La nave partita avrebbe dovuto ospitare i minori di Roccella ma è partita stanotte per motivi superiori indubbiamente consistenti altrimenti non sarebbe partita. Dispiacerebbe se la partenza della nave fosse legata invece a perseverare della sindrome NIMBI cioè dovunque ma non nel mio giardino. Per il primo cittadino di Roccella Ionica gli sbarchi non si fermeranno e servono politiche adeguate. Se qualcuno immagina di poter far concludere gli sbarchi con un decreto legge c'è già tentato qualcun altro però non ci è riuscito. Gli sbarchi non finiscono, gli sbarchi vanno gestiti e vanno gestiti al meglio. Ed ora il consueto e quotidiano bollettino Covid-19, cura della Regione Calabria. Bollettino il 18 di agosto, casi totali 1.357, 5 in più rispetto a ieri, ricoverati nei vari ospedali sono 9, in rianimazione una persona a Catanzaro, guariti 1.092, deceduti 97, in isolamento ad oggi 86 persone. Tamponi totali dall'inizio della pandemia 136.044. Il Ministero della Salute starebbe studiando insieme alle regioni e alle ASLAS se in caso di presenza di un contagiato a scuola sia possibile effettuare test molecolari immediati. Si tratterebbe insomma di un sistema di esami simile a quello che viene attuato in questi giorni negli aeroporti con chi torna da paesi considerati a rischio per alto numero di positivi. Questo potrebbe contribuire a tranquillizzare i genitori preoccupati per il rientro a scuola dei propri figli, i dirigenti scolastici e i docenti che potrebbero trovarsi a dover gestire le prime fasi del protocollo nel caso un ragazzo mostrasse sintomi riconducibili al Covid. Domani comunque ci sarà a Roma la riunione del Comitato Scientifico Nazionale. Anche quest'anno tanti incendi, in questa calda calda estate vediamo il servizio. Si intensifica il lavoro delle sale operative dell'antincendio boschivo di Calabria Verde che dopo qualche giorno di tregua dovuta alle insolite condizioni atmosferiche avverse registra un incremento significativo della gestione degli incendi. Con il ritorno alle alte temperature i focolai passano da una media di 40 a circa 60 al giorno. Lo scorso mese di luglio aveva messo a dura prova il servizio antincendio boschivo dell'azienda regionale per la forestazione. Gli incendi complessivi sono stati 1.552, di cui 182 hanno interessato aree boscate e sono stati necessari 65 interventi dai mezzi aerei regionali. I territori comunali più colpiti nell'ultimo mese sono stati Crotone con 118 incendi, Reggio Calabria con 102, Isola Caporizzuto con 71, Cutro con 53, La Mezzia con 40 e Vibo con 37. Al 31 luglio invece complessivamente gli incendi gestiti dalle sale operative di Calabria Verde sono stati 2.720. Per contrastare il fenomeno degli incendi boschivi dai primi giorni di agosto il servizio antincendio regionale ha al massimo schieramento delle forze. In particolare il contingente regionale è schierato con 30 squadre munite di autobotti e 35 squadre munite di pick-up per un totale di 65 presidi, AIB e 600 uomini. Il supporto del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco queste settimane di agosto prevede 12 squadre dislocate su tutto il territorio, così suddivise 3 nella provincia di Cosenza, 2 a Catanzaro, 2 a Crotone, 2 a Vibo, 3 a Reggio Calabria. La stessa convenzione prevede la presenza giornaliera di 12 direttori delle operazioni di spegnimento. C'è da ricordare che l'azienda Calabria Verde ha sottoscritto 27 convenzioni in materia di lotta agli incendi boschivi con altrettante associazioni di volontariato. La cronaca la Guardia di Finanza di Castrovillari ha sequestrato beni, mobili, immobili e criptovaluta nell'ambito di una indagine a carico di un uomo di 53 anni, accusato dei reati di malversazione, danno dello Stato ed anche autoriciclaggio. In particolare le investigazioni svolte dai finanzieri hanno consentito di raccogliere un grave quadro indiziario nei confronti dell'indagato dal quale è emersa la distrazione per fini personali di gran parte dei fondi europei su una società cooperativa. In pratica si tratta di finanziamenti per oltre 370 mila euro. Ed ora nel Regino, in modo particolare a Palmi, vediamo questo servizio. Tre giorni importanti dove nella tappa di Casa Calabria qui a Palmi abbiamo ancora una volta cercato di dare il nostro supporto nel valorizzare un territorio così ricco come quello di Palmi, legato a una serie di aspetti culturali, storici e soprattutto anche di turismo. Parleremo tra poco. Con me ci sono il sindaco Giuseppe Ranuccio e il delegato sporto, turismo e spettacolo Giuseppe Magazzù. Bentrovati! Ciao Domenico e grazie ancora per questa straordinaria occasione di promozione del nostro territorio a fini turistici e non solo, una vetrina unica, questa che ci avete concesso, per promuovere ancora una volta tutte quelle che sono le nostre bellezze, che avete magistralmente già raccontato. Palmi, città felice. Sì, è stata anche l'occasione per lanciare questo imponente progetto di rigenerazione urbana di cui abbiamo già reso i dotti i cittadini, un progetto che sostanzialmente riguarderà tutte le piazze, i quartieri, i piazzali della nostra città che saranno stravolti, rigenerati, riqualificati, laddove per essere sintetici oggi c'è un parco abbandonato, semplicemente delle esterpaglie, sorgeranno invece dei luoghi aperti condivisi con delle aree attrezzate per fare sport, per condividere delle ore in spensieratezza, praticando dello sport, giocando a boce, giocando a carte, degli spazi condivisi, fruibili per ogni età. Certamente una città e una giunta comunale che guarda al futuro. Parliamo di futuro, ma rimanendo in quello che è il presente, un'estate certamente particolare, dettata da alcune regole del Covid. Com'è andata fino a questo punto? Guarda Domenico, è andata bene, molto bene, perché pur avendo molte limitazioni abbiamo tentato di creare degli eventi che possano e abbiano coinvolto la gente. Abbiamo creato un format nuovo su Palmi, lo Street Live Music, abbiamo coinvolto dieci gruppi che hanno suonato e suoneranno, allettando le nostre piazze, e creando questo contest tra i gruppi locali. Non solo, stiamo anche lavorando in programmazione per l'anno prossimo, per la varia, quindi già preparando il terreno per poter realizzare questo grande evento, e così via, con un altro evento importante che sarà anche il Palmi Games 2020. Quindi un insieme di sport, le associazioni sportive che collaborano per creare questo evento di sport e di promozione. Ed ora la pagina sportiva, vediamo questo servizio. Un riconoscimento per il Crotone e per il suo bomber Simi. Come riportato dal portale calciomercato.com, le firme più importanti del giornalismo sportivo italiano ed ex calciatori hanno deciso di assegnare riconoscimenti dedicati al premio Maglio Scopigno per la stagione 2019-2020. Simi, fresco vincitore della classifica a marcatori della Serie B con 20 reti realizzate, è stato eletto miglior giocatore della cadetteria. La cerimonia di consegna si svolgerà ad Amatrice nella giornata del 28 settembre. È quasi fatta per Lorenzo Crisetti, già la regina. Il centrocampista è giunto a Reggio Calabria, si è recato al centro sportivo Sant'Agata per sottoporsi al tampone e alle consuete visite mediche. Si attende soltanto l'esito dei test per annunciare l'ufficialità e porre la firma sul contratto. Novità dallo stretto si attendono nelle prossime ore anche per Lorenzo Peli, giovane esterno in arrivo dall'Atalanta, già annunciato dal direttore, pronto da approdare in riva allo stretto. In casa Cosenza questa è la settimana dei rinnovi. Occhiuzzi ha fatto sapere che più calciatori del vecchio gruppo faranno parte del nuovo e meglio sarà. E Trinchera cercherà di far quadrare tutti i conti. A Corsi, Capele e Bittante verrà offerto un prolungamento annuale, fermo restando le legittime ambizioni dei calciatori. Mentre Perina gradirebbe un triennale conseguente aumento. La Vibonese riparte da Angelo Galfano. Per lui si tratta di un ritorno in Calabria dopo le esperienze in rosso-blu tra la stagione 2002-2003 in Serie D e quelle nella seconda divisione di Lega Pro tra il 2008 e il 2010. È partita ufficialmente invece la stagione del Catanzaro. Ieri il via alle attività, seppur con le mille restrizioni imposte dal protocollo sanitario. nel quartier generale Marinaro. Rosa divise in gruppi come accaduto nella prima parte della preparazione per i play-off. Un inizio controllato in tutti i sensi con gli occhi della società ben piantati sul campo. È tutto anche per oggi. Grazie per l'ascolto. Se vi piace la nostra informazione vi invitiamo a rivederci ogni giorno alle 13.45 e alle 20.45. Arrivederci.